Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Red e benvenuti in questo nuovo video Con questo oggi andremo a parlare di Il prossimo allenatore da Roma Perché stamattina mi sono svegliato e ho letto veramente tantissimi nomi Dopo la sconfitta di Manchester per 6 a 2 Che voi lo sapete, io non faccio mai le reaction Ma dall'anno prossimo incomincerò veramente a farle Cioè, io a fine primo tempo ci credevo Ci credevo, perché stavamo in vantaggio da uno Veramente ci credevo Anzi, ci credo tuttora che Anzi, ci credo ancora che possiamo andare veramente in finale Se io ci credo Quante volte ho detto ci credo, vabbè E stasera ci sta Roma Samadoria Io dico stasera perché il video lo sto registrando oggi Ma il video lo vedrete il lunedì Vabbè, andiamo ad altro Ho letto altri miei nomi Ho letto Sari Sari che ha già trovato l'accordo Manca solo il sì di Maurizio Sari Perché Allegri preferirebbe un'altra squadra C'è la possibilità che Allegri torni alla Juve Però Ho letto Sari Che appunto sembra trovare un accordo Poi ho letto Murigno che è stato intervistato E nell'intervista Ha mandato anche magari un segnale alla Roma E la Roma appunto Penso che la Roma ci si sia fondata Fiondata proprio completamente Anche se il favorito è Maurizio Sari Io ragazzi tra tutti i nomi Se devo essere sincero Tra Sari e Murigno Mi prenderei tutta la vita a Murigno Cioè ragazzi Di che parliamo? Cioè io prevererei Murigno Piuttosto che Sari E che dire ragazzi Per questo video è tutto Lasciate un like Iscrivetevi Attivate la campanella Per non perdervi nessun altro video Non ci vediamo come sempre con un nuovo video Ciao ragazzi Ciao